La scienza è prima di tutto un modo di porsi, è l'inclinazione a considerare direttamente i fatti piuttosto che quello che qualcuno ha detto loro a riguardo. La scienza è una filosofia di vita e ci sprona a non prendere mai nulla per scontato e a cercare sempre di comprendere il mondo che ci circonda attraverso l'osservazione e l'analisi dei fatti. Non dobbiamo lasciare che siano gli altri a dettarci ciò che è vero o falso, ma dobbiamo avere il coraggio di formarsi la nostra opinione basandoci sui dati e sulla logica. La scienza ci insegna a porci sempre delle domande e a non accettare mai nulla senza prima averlo verificato. In ultima analisi la scienza è la chiave per progredire come società e per affrontare i problemi del presente e del futuro. E come diceva il grande scienziato Albert Einstein, la scienza senza filosofia è cieca e la filosofia senza scienza è maldessa.